E' vero che la mia arroganza si sta espandendo, ma non ho intenzione di restringerla, piuttosto di allargarla. Io sono intenzionato a conquistare l'amore della moglie Ditto e il mio po'. Amar mia moglie? Lui? Diamoli la lezione che si merita. Lo invitiamo a un appuntamento. Voi due pingerete di incoraggiarlo a farvi la ponte. Voglio andare fino in fondo a questa storia. Scandaglio Faustoff, presentando per lui sotto forza nome. Se scopro che l'onesto dopo tutto è portato alla sua fatica sprecata. Che ti impicci tu dove le portano, ma sto forte, ti interessi di farmi sporchi adesso? Pistola! Pistola! Dai, dai, dai! Forza! Mi fate bene il cuore per combinare queste cose cose! Moricini miei! Mi sono ricordi, ho diventato qualcosa! о, se c'è... Si ti impari! C'è un cornu! Stiamo scherzando! Stiamo scherzando! Vieni qua! Mi fa! Mi fai! Oh no, intanto dateci quel che ci spetta! Amen